Il giorno 2-3 di februari non mi interessa ora per buscare un verhenni e lo che non mi interessa c'è un ID valido e quanto è verhenni da sale ci sono 4 florini di legge 5 florini di retribuzione e 5 florini per il verhenni messe e se le persone non chiedono il tent non hanno pagato 2-5 florini ora per il tent Il tent è che puoi andare in un'area di ora in Stato? Si, per il LG Smet, corretto Per quanto hai vento, che ti ti richi? E' lo che hai è per cui non mi interessa io non mi interessa l'isola